L'improvviso annuncio dell'arrivo di 10 richiedenti asilo tutti uomini attorno ai 20 anni in questa casa alle porte di Campo San Piero è stato un fulmine a ciel sereno per l'intero paese e soprattutto per la piccola comunità che abita in questo tranquillo quartiere residenziale dove ora si vive un'attesa carica di preoccupazione. Abbiamo paura perché comunque metteranno almeno da quello che ci hanno detto 10 uomini, 10 ragazzi mi sembra dai 18-30 anni e noi siamo preoccupati. Non sappiamo chi mandano, quanti mandano, qualche età hanno, cosa fanno, sono vaccinati anche poi tra l'altro. Cos'è che la preoccupa di più di questi arrivi? L'invasione. Che ne arrivino altri? Che ne arrivano altri. I residenti hanno già manifestato le proprie paure al sindaco in un incontro in municipio. A Campo San Piero ci sono già 7 o 8 richiedenti asilo ospitati dalla parrocchia ma questa volta gli arrivi hanno colto di sorpresa anche il comune. Il sindaco ne è venuto a conoscenza a cose fatte dalla cooperativa di Mirano che gestisce l'ospitalità. Io mi sono resa disponibile per quanto la cosa non sia decisa o governata a livello di comune a essere garante nei loro confronti di tutte le richieste che potrò fare alla cooperativa e però contemporaneamente con la prefettura io voglio delle risposte precise. Preoccupazione nell'Alta Padovana anche a San Pietro in Gu dove tra qualche giorno arriveranno altri 18 profughi all'hotel Pacifico in aggiunta ai 24 già presenti, 42 richiedenti asilo in una struttura che ha disponibilità massima di 24 posti letto. E' stato arrestato dai carabinieri di Piove di Sacco il piromane che nella notte tra il 9 e il 10 giugno 2016 appiccò un devastante incendio al centro commerciale di Vigorobea di Sant'Angelo di Piove di Sacco. E' un 49enne italiano che vive in zona. La struttura venne completamente distrutta dal fuoco costringendo alla chiusura del punto vendite Ramonda e allo stop dal lavoro a una ventina di dipendenti. I carabinieri dopo i primi rilievi constatarono che l'incendio era doloso. Sul posto trovarono una bombola di gas ancora aperta e una scia di gas liquido al primo piano dell'edificio. I danni furono calcolati in più di un milione di euro. Dopo l'arresto del piromane agli inquirenti non resta che chiarire se l'uomo fosse consapevole dei danni che avrebbe provocato e il suo movente. Sarebbe fuggito per paura il 21enne trevigiano che domenica pomeriggio ha provocato l'incidente stradale nel quale ha perso la vita il 45enne di Villa del Conte Roberto Pettenuzzo lungo la caposile Porte Grandi in direzione di Mestre. Il ragazzo si è presentato alla stazione dei carabinieri di Dosson di Casier nel Trevigiano dove abita e ora è indagato per omicidio stradale e omissione di soccorso. È al momento solo denunciato visto che si è presentato spontaneamente sebbene dopo ben 24 ore dal sinistro. Il 21enne ha riferito ai carabinieri di essere fuggito distinto perché già in passato gli era stata sospesa la patente sempre dai carabinieri per un sorpasso su linea continua. Domenica pomeriggio ha accelerato e si è allontanato. I carabinieri erano sulle sue tracce pronti ad arrestarlo grazie ad alcuni testimoni dell'incidente che avevano riferito di una Ford Ka bianca che appunto non si era fermata nemmeno a soccorrere il povero Pettenuzzo. La morte del centauro ha scosso profondamente gli abitanti di Villa del Conte dove l'uomo era titolare di un'officina e rivendita di motocicli e viene ricordato come una persona sempre disponibile dal cuore grande. La data del funerale non è ancora stata fissata. Il semaforo dell'incrocio tra via Manetti e via Roma si candida seriamente a diventare uno dei tratti distintivi di Limena. Anzi se ci si dimentica di lui è lui a farsi vivo tramite una raccomandata della Polizia Municipale. Circa 5 automobilisti al giorno infatti vengono multati dall'implacabile Vista Red, il dispositivo che sanziona chi attraversa con rosso. Nel 2016 i multati sono stati quasi 2.000. Quest'anno solo a gennaio e febbraio le multe hanno sfiorato i 60.000 euro. In paese inizia a diventare difficile incontrare un'automobilista che non abbia avuto a che fare con il Vista Red. Ho preso anch'io sinceramente questa. Senza saperlo mi è arrivata a casa perché scattava il rosso in maniera molto veloce perché non ci si rende neanche conto. Non è giusto. Perché? Perché è una cosa indecente, è una truffa praticamente legalizzata. Il traversamento del samaforo dall'inizio alla fine è talmente lungo che il tempo che ci impiega il samaforo, che i 3 secondi, che i 4-5 secondi che dicono che mettono è insufficiente per poter attraversare tutto il samaforo e ti trovi nel bel mezzo con il rosso delle volte. Io col camion delle volte devo fare dei frenati forti per evitare il passaggio, perché so che non ce la faccio. Il giallo dura troppo poco, sostengono alcuni automobilisti, in quello che diventa l'eterno dibattito tra rassicurazioni di accorgimenti necessari a garantire la sicurezza stradale e sospetti di pretesti per fare cassa. Certo, le soluzioni per dissipare i dubbi non mancherebbero, come quella ad esempio di piazzare accanto al semaforo, sull'esempio di altri paesi, una sorta di conto alla rovescia sulla durata del verde. In maniera tale da riuscire a capire la tua capacità, la velocità, il tuo mezzo che hai a disposizione, se ti permette di attraversare il samaforo oppure no. Ha un nome e un volto chi avrebbe travolto e ucciso in sella la sua bici Roberto Brotto, dirigente amministrativo nel settore bilancio, nell'ospedale cittadino dell'US6 Euganea. I carabinieri di Bassano, del Grappa e di Asiago, in poco più di 24 ore, sono arrivati a individuare chi era alla guida dell'auto. L'identificazione è venuta nel tardo pomeriggio di ieri, l'investitore è di Marostica. Nei suoi confronti è stato disposto il fermo e l'interrogatorio del Pubblico Ministero della Procura di Vicenza, che si è protratto fino alla tarda serata. Il magistrato ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo, aggravato per non essersi fermato a prestare soccorso. Gli investigatori sono risaliti all'uomo grazie ai pezzi del veicolo recuperati sul luogo dell'incidente, in particolare frammenti di vetro e uno specchietto retrovisore. Sono state quindi effettuate verifiche sui modelli d'auto e sui carrozzieri. Ad aggravare la posizione dell'indagato c'è il fatto che forse Brotto poteva essere salvato. Tra le ipotesi del PM, infatti, c'è quella che il dirigente non sia morto sul colpo ma alcune ore dopo l'incidente. Sarà comunque l'autopsia, che la Procura ha già disposto, a stabilire l'ora del decesso, in base alla quale si potrà sapere con certezza se un soccorso repentino avrebbe potuto salvare la vita al dirigente sanitario. Qualora questa ipotesi dovesse essere confermata, le accuse per il pirata della strada, che deve già rispondere di omicidio stradale, si aggraverebbero pesantemente. Chi atterra, chi in piedi, in mezzo alla strada, bagnoli profughi ospitati nel lab di San Siro tornano a protestare bloccando la provinciale per circa un'ora. Una nuova rivolta dopo quella di gennaio e quella dello scorso ottobre. I migranti, circa 200, hanno fermato il traffico, poi a piedi sono tornati verso la base, ripresi dai video dei cellulari dei molti abitanti di bagnoli bloccati a bordo strada. I migranti hanno sbarrato poi con un tavolo l'entrata e l'uscita della base. Siamo bloccati qui da più di dieci mesi, mangiamo sempre le stesse cose, il 99% delle richieste d'asilo sono state respinte. Chiedono i documenti per poter lasciare l'hub, una qualità maggiore del cibo e un incremento delle attività del centro d'accoglienza. La situazione di Bagnoli è sempre più critica, all'interno ci sono ancora 700 migranti, il numero è stato ridotto ma di poco, nonostante le promesse del ministro Minniti che era arrivato a Padova all'indomani dell'attentata violenza sessuale commessa proprio da uno dei profughi ospitati all'interno del lab. Promesse che somigliano più a Chimere per i cittadini del piccolo comune della Bassa che da oltre un anno convivono con una polveriera pronta ad esplodere, proprio come è accaduto in questa mattinata di tensione. Dalla Bassa all'Alta Padovana l'emergenza profughi sta esasperando i sindaci della provincia. Dopo l'ennesima rivolta scoppiata ieri nel lab di Bagnoli di sopra, oggi è stata la volta di San Pietro Egu. Qui il sindaco Gabriella Bassi annuncia di aver firmato un'ordinanza che dichiara inagibile l'albergo di via Marconi, dove da settembre sono ospitati dei profughi. I numeri in questi mesi sono cambiati in continuazione e ora lo stabile viene considerato centro d'accoglienza. Noi abbiamo preso il coraggio a due mani e abbiamo revocato legibilità. La vicenda è complessa, l'albergo può ospitare al massimo 24 persone, ma durante un controllo dell'amministrazione a marzo il sindaco dice di aver trovato all'interno 47 eletti. Il giorno dopo mi è arrivata una lettera dalla cooperativa, la quale mi informa che i profughi sono 42 e mi allega la lettera della prefettura a loro inviata, che è inviata alla prefettura, ai carabinieri, alla questura e non al comune. Questo è il massimo dell'indecenza perché credo che il prefetto avrebbe dovuto avvisare anche noi. Noi non accettiamo come sindaci di essere trattati in questo modo. Il sindaco si appella al prefetto e al governo, stanca di essere sempre l'ultima a venire a conoscenza di quello che accade all'interno della struttura. I profughi, dice, sono aumentati anche in questi giorni. Per tutte risposte mi arriva un'altra comunicazione delle cooperativa che aumenta il numero di altre 8 unità, quindi 42 più 8 a casa mia fa 50. Il processo per l'omicidio di Isabella Noventa, avvenuto il 15 gennaio dell'anno scorso, ripartirà martedì prossimo, 30 maggio. Sarà il momento delle difese, ma anche forse di un colpo di scena, l'ennesimo. Nelle scorse settimane, infatti, un anonimo avrebbe spedito in carcere a Freddi una lettera che darebbe una lettura ben diversa della vicenda. Una lettera di quattro pagine che potrebbe essere acquisita dal giudice alla prossima udienza e quindi inserita nelle carte del processo. L'anonimo autore della missiva inviterebbe Freddi a dire la verità sulla vicenda, sostenendo che non sia lui l'autore dell'omicidio, bensì che ci siano dei mandanti, forse esponenti dell'ex mala del Brenta, che avrebbero prestato molti soldi a Isabella e che quindi ne avrebbero preteso la restituzione. Siccome Isabella avrebbe minacciato di denunciare in questura questo prestito, che in realtà sarebbe stato un fenomeno di usura, la mala avrebbe deciso di eliminare la donna, appoggiandosi poi a Freddi e Deborah Assorgato e a Manuela Caco per la messa in scena e tutto il resto. Difficile che il PM Giorgio Falcone, che ha chiesto l'ergastolo per Freddi e Deborah e 16 anni di reclusione per la Caco, accetti questa versione. Intanto, secondo il nuovo calendario delle udienze, la sentenza è slittata in avanti e dovrebbe essere pronunciata attorno alla fine di luglio.